ben trovati ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabian brosi punto it quest'oggi parliamo di adobe audition in particolare parliamo del rack effetti e della differenza che esiste tra gli effetti clip e gli effetti tracce abbiamo solo tre minuti quindi iniziamo subito eccoci in adobe audition stiamo lavorando in una sessione multi traccia e quello che vogliamo fare è lavorare oggi con il rack degli effetti audio per aprire questo pannello come al solito se non lo avete già aperto potete accedere al menu finestre e scegliere la voce rack effetti audio eccolo qua ce l'ho già aperto ed è già spuntato perfetto selezioniamo la prima clip è importante selezionare una clip in questo caso perché perché stiamo lavorando nella tab effetti clip quando lavoriamo con la tab effetti clip l'effetto che andiamo ad applicare verrà applicato solo alla clip selezionata questa è la principale differenza tra gli effetti clip e gli effetti tracce facciamo un esempio pratico dicevo selezioniamo la prima traccia audio io qui ho tre suoni diversi dei dei passi su carta dei passi normalissimi e un bicchiere d'acqua che si riempie ok dicevo selezioniamo la prima clip e nella tab effetti clip del rack effetti scegliamo un effetto semplice per esempio un riverbero applichiamo un preset qualsiasi corridoio amaro va più che bene e ascoltiamo cosa accade ok è stato applicato un effetto riverbero a questa clip ma ascoltiamo la seconda clip bene il riverbero non va ad influenzare la seconda clip perché perché abbiamo inserito il riverbero solo nella prima clip e stiamo lavorando nel rack effetti nella tab effetti clip tutti gli effetti inseriti nel rack effetti sotto la voce effetti clip vanno ad influenzare solo la clip audio selezionata in quel momento per capirci se seleziono la seconda clip vedete che il rack effetti torna completamente vuoto questa clip non ha nessun effetto applichiamo a questa clip un altro effetto audio per esempio ritardo ed eco scegliamo un effetto qualsiasi è solo una dimostrazione e mandiamo in play perfetto a questa clip abbiamo applicato un eco utilizzando il rack degli effetti e la tab effetti clip la prima clip ha un effetto di riverbero la seconda clip a un eco e la terza clip come vedete non ha nulla per rimuovere un effetto basta selezionare la clip che possiede quell'effetto selezionare l'effetto nel rack effetti e premere cance sulla tastiera l'effetto viene rimosso facciamo la stessa cosa con la prima clip selezionare l'effetto cance e l'effetto viene rimosso lavoriamo adesso nel rack effetti sotto la tab effetti tracce e applichiamo anche qua un ritardo ed eco di lei analogico va più che bene quello di default è solo una dimostrazione ascoltiamo cosa accade questa è la prima clip andiamo alla seconda clip come potete vedere lavorando nel rack effetti sotto la voce effetti tracce andiamo ad applicare un effetto non ad una singola clip ma a tutte le clip presenti nella traccia selezionata se io avessi una clip audio ad esempio nella traccia numero due questa clip non avrebbe associato nessun effetto perché gli effetti applicati sotto la voce effetti tracce influenzano solo la traccia selezionata termina così anche oggi questo mini tutorial firmato fabiambrosi.it un tutorial semplice semplice da vedere in tre minuti vi ricordo tutorial chiocciola fabiambrosi.it l'indirizzo di posta elettronica per chiedere dei mini tutorial su misura per voi www.fabiambrosi.it sito da visitare dove c'è anche il corso introduttivo a premiere pro e il corso introduttivo ad after effect se vi fa piacere ovviamente condividete questo video mettete un like ed iscrivetevi alla pagina facebook fabio ambrosi mettete un like e teniamoci in contatto grazie e al prossimo tutorial